La griglia a gas portatile Sportsman 2 di Pit Boss è l'esperienza di grigliatura ideale per il vero amante della vita all'aperto, perfetta per il campeggio e il giardino. Questa griglia è caratterizzata da una robusta versatilità in un innovativo design trasportabile, così puoi portarla con te ovunque vai. La griglia Sportsman 2 è dotata di due zone di riscaldamento indipendenti, una potenza termica maggiore rispetto alla concorrenza e viene fornita di serie con griglie di cottura in ghisa per garantire la massima flessibilità di cottura e facilità di utilizzo. Con un setto a piastra in ghisa reversibile opzionale puoi realizzare le tue preparazioni preferite come uova, pancake e pancetta. Oppure puoi utilizzare il lato rigato per grigliate più tradizionali e un ridotto contenuto di grassi. Puoi anche utilizzare il sottopentola reversibile opzionale per cucinare le tue zuppe o minestre preferite o friggere tutte le preparazioni che vuoi in un wok. Il design a cupola alta del coperchio e la forma versatile della griglia offrono spazio sufficiente per cucinare facilmente una pizza, due polli o un tacchino intero. La griglia di cottura superiore opzionale offre spazio per cucinare pietanze più piccole come perdure o spiedini. Le possibilità sono infinite. L'alluminio pressofuso del coperchio e del corpo della griglia elimina il rischio di ruggine garantendo longevità alla griglia. Il sistema integrato con vassoio di raccolta grasso e i rivestimenti paraschizzi garantiscono una facile pulizia e i regolatori di fiamma integrati riducono al minimo le fiammate. I regolatori di fiamma integrati riducono al minimo le fiammate e ogni bruciatore in acciaio inossidabile è dotato di sistema di accensione Surefire per garantire ogni volta un avvio immediato. Sportsman 2 presenta anche varie innovazioni, tra cui un termometro grande e facile da leggere, una maniglia in acciaio inossidabile che non si surriscalda, gambe robuste e due grandi ripiani laterali pieghevoli con ganci per utensili per mantenere la griglia sempre ben organizzata. Sportsman 2 è possibile aggiungere un carrello Deluxe opzionale che fornisce spazio aggiuntivo per ciò che serve. Un vassoio per condimenti incorporato in mobilità più facile, trasformando questo sistema portatile in un'eccezionale griglia per il giardino di casa. E non dimenticare la copertura. La copertura opzionale è disponibile per la sola griglia o per la griglia completa di carrello Deluxe per mantenere tutta l'attrezzatura pulita e protetta dalle intemperie. Se vuoi la qualità, vuoi una griglia Pit Boss. Sportsman 2 è ricca di funzionalità innovative ed è più versatile di qualsiasi altra griglia disponibile sul mercato. Sportsman 2 è ricca di funzionalità di carrello Deluxe per mantenere tutta l'attrezzatura pulita.